Con 208 incendi e 1.400 ettari di bosco già bruciati dall'inizio dell'anno, la Regione Toscana ha attivato un nuovo bollettino presentato dall'assessore all'agricoltura Marco Remaschi che prevede una scala di colori per indicare il livello di rischio di sviluppo e propagazione dei roghi. Verde, giallo, arancio fino al rosso è il più alto livello di rischio. La novità è stata promossa dal servizio antincendi boschivi AIB in collaborazione con il consorzio LAM e CNR IBE ed è prevista dall'ultima edizione del piano antincendi boschivi 2019-2021 approvato dalla Giunta regionale. Questo per fornire un'ulteriore possibilità di poter capire dove si possono verificare o sviluppare gli incendi e che tipo di pericolosità possono avere e questo anche in ragione, ripeto, del cambiamento climatico. La struttura regionale antincendi dispone di 600 mezzi tra fuoristrada e autobotti oltre che di 10 elicotteri messi a disposizione tramite gara di appalto mentre il personale AIB è addestrato nel centro regionale la pineta di tocchi di Monticiano per non farsi mai trovare impreparati. Il volontariato toscano in collaborazione con la regione è prontissimo per affrontare la stagione. Tutte le associazioni che aderiscono appunto al coordinamento sono operative ormai comunque da mese perché già quest'anno i primi incendi ci sono stati già a febbraio-marzo per cui è una macchina rodata, è una macchina già pronta, è una macchina che è a disposizione per eventuali appunto incendi sul territorio. Chiunque ha visti un incendio deve telefonare al numero verde 800 425 425 della regione toscana oppure al 115 dei vigili del fuoco. Fino al 31 agosto è in vigore il divieto assoluto di accendere i fuochi. Grazie a tutti.